No, abbiamo ruoto il letto... Minaaa! Il piede? Ma poi il piede... Lattina non è tua sorella? Ma poi la mia è stata la buntura... Uaaaaaaaaaaa Ma-aah! La mia canta cibo-aah! Ma-aah! 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 Mi-aah! Ma-aah! 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 non abbiamo portato altro vai vai sono gli zuccheri sono gli zuccheri ah, il Cambridge ti noto nel massaggiatore a te che porti fuori le cape gli addominali però aspetta che Cambridge fa un massaggino dolce ho paura adesso va proprio che adesso mi si bloccano le orecchie non ci sento più oh no no di solito per che ora finiscono di solito per che ora ci stanno guardate 5 oggi non ci svegliete adesso te le 10 e 5 10 e mezzo se non ce ne andiamo aspettare nanna no 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 vediamo se lei è così mobile no capo sta gamba no 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 ci sono delle cose ci sono delle cose aspetta vuoi cliccare questo di qua dai vai il crocello eccolo ci sono delle cose in mezzo vediamo qua cosa c'è? stavano tante le mani si ti può udito 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 dimmi quali i nomi di metalli che iniziano a parlare la U uraneo 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 del tipo del tipo del tipo mia mamma sai cos'è un candito? dai cos'è un candito? uuuu 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 aspetta che sembra una barbetta riso fa l'idea si no da 5 età no da solo guarda che siamo davanti tutto il ritorno ma aspetta questa è quella che non ho mai capito non importa non importa vedi sei disperato vai con uno scatto felino con uno scatto felino con uno scatto felino sandu vai fai una cosa di chirurgia plastica come il suo protone fai una cosa di chirurgia plastica come il suo protone meron o guca ha guardato però ma non lo ha rotto io ma lo ha rotto io mi ha dato la scusante mi ha dato la scusante era un procione che voleva che gli allargassi il buco ok, gliel'ho rotto io gliel'ho fatto io ecco, non dico altro una sera che ho fatto chirurgia rifugio la testa del suo procione e la mucca perché qua, ragazzi, la gente che va dentro con i dei ma scusa, io la stavo carezzando così e il dito mi ha finito nel buco no, mi hai strozzato, è diverso ma è che cazzo, lo stavo facendo l'intenzione era quella ma la mattina è forte no, lo stai dentro, mi prendi ve le attirate solo perché avete le braghe della scouse eccole, eccole no, perché quelle grigie le ho regate io la mattina se le prese e i gerotti della scouse e bravi della scouse è stata io la prima e poi mi faranno anche l'alconciatura con la marca scouse e i gerotti della scouse assi scandalose non c'è la superficie non c'è la superficie se la fa hai capito, cosa fa solitamente, è vero? no, fine tipo le tante beh, c'è volte che faccio capito in poltrona tipo raga, come ci possono ma io non riesco alzando così e mi tiro su dall'altra parte beh, quando non vuoi quando non vuoi far troppa fatica è la cosa migliore tipo pirotti no, scusa, ma è nel campo quindi vedere uno che fa nooo 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 mi fico il tuo cane è più intelligente di te perchè fa le stesse cose che facciamo io ai campi appunto che dico io non ho una fortuna il mio cane, il mio testimone mi diceva fa ieri in casa mi va a sbagliare no, in casa no, no, no no, riprendi l'ora no, aspetta non fa cosa racconta questa sabato mattina sono a Bologna perchè ho iniziato alla scuola di psicoterapia a Bologna il psicoterapia eeehm aspetta non si speglie amici quanto manca? eeehm è praticamente tre minuti e mezzo tre minuti e praticamente se io aspettare l'autobus passa tutta la gente dentro in età vedo venire su due che me punta due signore no, no no dai arriva l'autobus del cacchio e arriva due testimoni di Geova oh sentitevi la pochissima no si arriva ciao salve è tipo che vuoi usare l'espressione di quel che vuoi dire ma non sto arrivando e via e via e fammi ciao senti scusa fate una domanda sei credente? e mi dice sono dell'azione cattolica e questo che è bello trovare una persona così giovane e credente che cuore che cuore che cuore potevi prima dirgli sono altri sii ma c'è una nota e quindi sono addirittura adesso devo pensare ero se volete ah e mi hai dato libretti a portarmi a casa cioè fa fortuna a un certo punto si arriva su sto auto sii la salvezza mio papà suona il campanello si e vorremmo lasciarle giù una coppia della bibbia non c'è nessuno sono un pappagallo di casa e mio papà e mio papà no non c'è nessuno chi è? chi è? chi è? il latte chi è? io sei i testoni io sei i testoni i testoni ah i testoni aspetta si aspetta no non vado più in mente aspetta aspetta io sei i testoni ah no cacchio avevo detto mamma eh io non l'ho mai sentito la frase era siamo i testoni di Geva e siamo qui per darle una bibbia sii e siamo i testoni siamo i testoni della bibbia e avevamo mandarle un Geva no no però era tutto invertito sii no cacchio siamo i testoni oh andrò a vedere i testoni mi fanno abboiatta dai dai non lo so non me l'ho mai raccontata no ma mai sii fondamentalmente ora magari qui io e la mia mamma ha 24 ore su 24 a casa io non le ascolto ormai via Libia via Libia via Libia via Libia via Libia venivete bustoni per la mia maglietta oda deja no i testoni Salve signore, siamo i testimoni di Gerona, siamo qui per dargli una bibbia. Oh Beppi, cos'hai i testoni della Libia? Vieni qua! Mamma, provi anche fuori dei pezzi del nostro genere. Guarda che sono di quelle cose che tipo... Stiamo mangiando... Lei viene fuori con... Lei viene fuori con... Vieni fuori con queste cazzate, tipo io e mio papà ci fermiamo, la guardiamo, col pezzo di pane in bocca così... E mia mamma! Cioè cosa ho detto? E prendiamo e andiamo via tipo... Anche a me è il suo problema... Comunque so che... No beh, se tu la consigli di capire... Deve passare anche lui la fase... Ho passato la fase di vergognarmi quando fa le boccine però... È già qualcosa... Tipo Paolo Furegon al campo... Al campo... Giovanissimi... D'estate... Ma come fa? Eh, come fa? Tipo proprio con la faccia... Sconvolto... Eh, ma... Bisogna con... Si sa che quest'estate venga su anche lei al campo estivo... Beh, sarà l'anno scorso... Ci delizierà con le sue boccine... Ma... Ancora là? Ancora là? No... Quest'anno vorremmo fare... Ci siamo... Sono le 10 e un quarto... Eh, forse è meglio che andate a casa... Forse è meglio che andate a casa... Gente... No, ma ti pare? Ma ti pare? Ma... Scati in pati! Non ci fai la denti! Tipo... L'hai sbagliata! brava bravissimo c'è troppa gente domani ho analisi del suolo del suolo 4 kg di terra esco oreggio piego infatti la distraggo ma mollagli il pugno fagli qualcosa inutile è inutile no aspettate perchè non posso sentire lei è intelligente perchè non posso sentire perchè non posso sentire perchè sei capi nostri no scusa maledetto no 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 se tu le hai moletarmi direttamente si faceva male no il tuo sedere sulla mia faccia eh allora tu togli la tua faccia dal mio sedere si mi fai passare magari grazie a me io mica ah ah no no vai via ma hai visto? ma guardate 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 ma scusa non hai visto non hai visto no non ho visto oddio non ho finito si si non ho visto non ho visto non ho visto io devo prendere il mio balsamo non ho visto 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 ma quanto dura ma quanto dura sto video un'ora forse basta mandali via saluto finale al video saluto finale aspetta 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 no 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 mi immagino il finale del video non ho visto no 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 n no no